Allora ragazzi, siamo qui nella sottoria Tiger Milt, tu sai che è Miltio, in compagnia di Lugiano, Stefano, Stefano, Stefano e Matteo e Stefano e Matteo detto, mi sento come? Sono Miltio, sono Miltio, sono Miltio, sono Miltio, sono Miltio, sono i miei amici della sottotitoli di Tiger Milt al post dei margine, venite a visitarlo e fate il mio nome per avere uno scopo, mi raccomando, mi raccomando le moderatrici del mio canale, è di queste mix di cose, se basta argentino e se ne devi tagliare polacco, polacco, io invece a svaniti come sapete, la via vedete, io veramente a svaniti, faccio com'è, si vede di qua, si muove, 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 è un amico da solo, c'è da ieri, ora la vola di qua, non stiamo facendo vedere, si sta tatuando una relazione, da ieri che combini, la tatuiamo, la tatuiamo? Partiti eh, Lei sei pronta? Si! Non ti muove, nessuna cosa di meno, eh? Tattuaggio per la moderatrice, vado! Vai! Pezzhando l'acqua. Prendiamo la faccia, fa male! E no li fa ridere! Sì, muove Pamematola! E' piùピalo Il disegno ve lo faccio vedere, c'era un disegnino qua, eccolo qua, il disegno si sta facendo ora è questo qua. Allora, questo è quello che si fa la Micola, no, questo è quello che si fa lei. Ma quello con lo chignon, chi ce la fa? Lo fai di quello con lo chignon? Quello con lo chignon? Scusa, lo chignon è lei. Ecco il mio tatuatore, ragazzi, questo è il mio tatuatore, mi ha massacrato un braccio. Ragazzi, venite in zona forte di marmi e venite a trovare questi due ragazzi, sono fenomenali. Sta rimazzando. Ok, è finito il tatuaggio. Questa sarebbe la sorella di... No, c'è il disegno di lei, il numero 96. Ma la Micola non c'era il chignon, scusa. No, c'è il di qua, io ce l'ho. Non ho ancora capito le cose, vabbè. Comunque. Aspetta, non si vede niente. Aspetta, non lo metti molto lungo. Questa la scelta è uguale. Sì, non lo scelta. Ora tocca alla mix. Complimenti per lo studio, ragazzi, avete fatto proprio un bel lavoro. Ah, ricordiamo che questo studio se lo sono montati tutto da solo, questi due ragazzi. Si è arrivato così, mi è nato la legge. Ah, anche il parquet l'avete fatto. No, si è arrivato così, mi è nato la legge. Timone. Loro facevano i pescatori tempo fa. Poi è andato tutto, diciamo, la barca non ha retto. E non l'ha salvato. Ha salvato il timone. Mi ha voglia. Ah, ricordiamo che questo ragazzo qua che suonava la chitarra e questa è la batteria. Di fatti, vedete, è seduto sopra a uno strumento. Non uno strumento, ha un sedile per fare la batteria. È in diretta questa roba? È in diretta questa roba? No, ora non sentiamo. No, però la mettiamo stasera, tranquillo. Siccome viene ballata. Allora, lui era il chitarrista. Questo era il batterista. E noi nati chi era il bassista? Io, perché ero basso. Ero alto così, ero bassissimo. Faccio ridere, ragazzi. E di, facciamo un po' di tatuaggio se è finito. Ok, quindi dopo l'altra lo fa vicino, si potrà neversare. Con la faccia la metto io in parte. Va bene, è cominciato. Fa male? No. Ti lascio un sacco. Vai, vai. Eh? E' bella postazione. Ciao. 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 Buono. Posso andare? Ciao, Seba. Ci vediamo, eh? Buono. Grande, se. Se basti a Matera, cercatelo da Google, ragazzi. Grazie. Facciamo un po' di titolo, eh? Facciamo un po' di titolo, ragazzi.